Ciao amici, ciao a tutti. Lo scorso anno, più o meno di questi tempi, partecipavo al premio Giovanni Paolo II, un premio che mi ha onorata, mi ha resa felice, orgogliosa. In quella situazione ho incontrato tanti amici, attori, autori, musicisti. E' stato un convivio meraviglioso, in allegria, in gioia, anche se altri come me non erano giovanissimi, in gioventù, perché Papa Uitila è stato il Papa dei giovani, il Papa giovane dei giovani. Io l'ho amato tanto da ragazzina quando è diventato il nostro Papa, così come lo amo oggi, che è un beato, e che mi fa compagnia ogni giorno nelle mie preghiere. Che dire, mi auguro di tornare presto, appena sarà possibile, appena questo periodo strano e terribile ci lascerà. Spero di tornare ad abbracciare tutti i miei amici, i miei colleghi, e con la speranza di poter condividere ancora tutti insieme un palco e raccontare il nostro amore per Papa Uitila. Ciao a tutti!